La storia tra il Comune e l'MP Parcheggi, che gestisce il termine a Di Colle Maggio, sembra non avere fine neanche con la nuova amministrazione. Dopo le varie denunce degli utenti sullo stato di abbandono e degrado del parcheggio, servizi igienici compresi, è dovuto intervenire addirittura l'assessore Carla Mannetti, dopo che comunque si stavano facendo dei passi avanti per cercare di dirimere le varie questioni e rimanze sospeso negli anni. In Cresciosa è stata definita dall'assessore la situazione del parcheggio, in seguito a un sopralluogo che è stato effettuato dalla stessa amministratrice comunale e dai funzionali del servizio mobilità dell'ente. Abbiamo voluto verificare la struttura, detto la Mannetti, in seguito ad un articolo che denunciava lo stato di degrado, in particolare per quanto riguarda i servizi igienici. Il nostro sopralluogo ha confermato tale stato, assolutamente inaccettabile. Non sono stati soltanto i bagni tenuti in modo indecente a destare la nostra profonda preoccupazione, ma altri punti del parcheggio dove la situazione di abbandono è tangibile. Una parte delle aree di sosta è risultata occupata da materiali di scarto e rifiuto provenienti da lavoratori di lizie. Altra parte è stata interdetta per una vistosa perdita di liquidi oleosi. La pavimentazione, in corrispondenza della biglietteria degli autobus, è disastrata in più parti e anche in qualche tratto dell'esterno la situazione non è migliore. A ciò aggiungiamo che nonostante le sollecitazioni, non è stato riaperto il tunnel di collegamento a Piazza Duomo, dove peraltro sono state riscontrate problematiche connesse alla condensa superficiale su pareti, soffitti e pavimenti. Dal sopralluogo è stato ridatto un verbale, allo scopo di chiedere alla società, all'MP, di porre subito rimedio a queste gravi disfunzioni emerse. La stessa società si è difesa lamentando una scarsezza di risorse, dovute al fatto che non sono state ripristinate le sosti a pagamento. Ma abbiamo obiettato, ha detto la Mannetti, che il parcheggio di Colle Maggio offre un servizio a pagamento per gli automobilisti, senza contare gli introiti dovuti al terminal degli autobus versati dalle varie società dei trasporti che fruiscono degli stalli.